Quinto e ultimo concerto stasera per il Sant'Elpidio Jets Festival, la settempedana Mafalda Minnozzi canta con il chitarrista new yorkese Paul Ricci. Appuntamento stasera alle 21.15 a Porto Sant'Elpidio dove con il concerto Empatia Jets Duo si conclude il Sant'Elpidio Jets Festival. Gessar, la cantante settempedana Mafalda Minnozzi insieme al chitarrista new yorkese Paul Ricci. Patrizia Ginobili. La rassegna è iniziata il 19 luglio, 5 gli appuntamenti della sedicesima edizione del jazz di marca. Il circuito Sant'Elpidio Jets Festival dopo il grande successo ottenuto con i concerti in piazza Matteotti che hanno avuto il clu con l'esibizione di Noa. Apprò da stasera al Diamond Center di Porto Sant'Elpidio con la performance musicale che chiude il calendario 2015. L'appuntamento con ingresso libero alle 21.15 vedrà esibirsi Empatia Jets Duo in un cocktail musicale swing, jazz e bossa nova. Mafalda Minnozzi, voce e Paul Ricci chitarra. La cantante è considerata marchigiana poiché la sua famiglia risiede a San Severino Marche, ma vive da tempo in Brasile dove è una vera star della musica, nota per essere l'autrice della colonna sonora di Telenovelas di grande successo. Mafalda, ambasciatrice della canzone italiana nel paese della bossa nova, da tempo ha stretto una proficua collaborazione artistica con il chitarrista new yorkese Paul Ricci. Insieme hanno lanciato il loro nuovo progetto musicale Empatia. Nel gennaio di quest'anno, dal Teatro Ferronia di San Severino Marche, hanno poi girato tutta Italia. Il duo si è esibito anche a Milano nel padiglione del Brasile di Expo Italia. Al Diamond Center, porta marchigiana di Expo 2015, a fare da cornice al concerto la mostra Jazz in Black and Color, dell'Eppidienze Andrea Rutili, vincitore del Jazz War Photo 2015.